Musica Oggi parliamo di Renzo De Felice, autore di una grandiosa biografia di Benito Mussolini che doveva essere in partenza di quattro volumi e finì in otto volumi, tanta era la mole della ricerca e l'ultimo De Felice morì prima di completarlo. Questa biografia suscitò numerose polemiche, anche molto vivace, ma vediamone i momenti salienti. 27 dicembre 1956 Dopo i fatti di Budapest del 1956, il giovane studioso Renzo De Felice lascia il Partito Comunista. Sarà una scelta definitiva. 29 novembre 1961 Per l'editore Einaudi, De Felice presenta il libro Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo. È l'inizio di una svolta. Marzo 1965 Esce sempre per Einaudi Mussolini il rivoluzionario, il primo volume della biografia del dittatore. Ne seguiranno altri sette. Di Renzo De Felice parliamo adesso col professor Francesco Perfetti. Professore, ho parlato di polemiche. Perché in realtà ci fu qualcosa di più. Tempeste, studenti che cercavano di interrompere le sue lezioni, doveva intervenire la polizia, anche fuori dagli anni della contestazione. Addirittura un attentato accadde a sua con delle bombe morto. Altri storici che chiedevano di togliergli la cattedra, di non pubblicare, che gli editori di sinistra non pubblicassero i suoi libri. Che è questa tempesta? È una tempesta che nasce fra l'altro dal clima dell'epoca. Siamo appunto negli anni Sessanta. La biografia di Mussolini comincia a uscire alla metà degli anni Sessanta, poi c'è il Sessantotto. C'è tutta una serie di questioni ed è effettivamente un lavoro, quello di Te Felice, che distrugge, diciamo, per così dire, tutte le certezze che erano state codificate da una cultura egemone. Per esempio il fatto che il fascismo fosse un regime di estrema destra, il fatto che il fascismo non fosse, diciamo, il risultato delle tare secolari di un popolo, il fatto che il fascismo non fosse, diciamo, la reazione del capitalismo, l'ultimo canto del cigno del capitalismo morente, come volevano i marzisti. E la contestazione a Te Felice è una contestazione che diventa simbolo, diventa simbolo perché Te Felice viene presentato a torto, decisamente a torto, e desidero ribadirlo, come un simpatizzante nei confronti di Mussolini, come una persona che riabilita il fascismo. E invece era tutt'altro, ma vediamolo. Basta leggere l'opera per rendersi conto che chi esce distrutto alla fine di tutta l'opera è proprio la figura di Mussolini. È vero, e vediamo, entriamo nel primo capitolo, dove vediamo chi era davvero, chi fu davvero, Renzo De Felice guidati da Matteo Marroni. Renzo De Felice è stato a lungo lo storico italiano più discusso e influente tanto nell'accademia quanto nel discorso pubblico. Eppure, oltre un quarto di secolo dopo la morte, certi suoi aspetti sono ancora poco noti e apparentemente contraddittori. È famoso come studioso dell'età contemporanea, ma nasce in realtà come storico dell'età moderna. Per molti scrive in modo difficile, tortuoso, prolisso. Eppure, proprio i suoi libri sono tra i più venduti, anche al di fuori della cerchia degli specialisti. È uomo riservato, schivo, che davanti alle telecamere non di rado incespica e balbetta. Eppure, senza snobismi, frequenta la televisione che si rivolge a lui per la sua indubbia competenza. Tanto che, per decenni, dietro molti documentari storici della RAI c'è stata la sua firma. In ambito politico è spesso poco amato a sinistra. Eppure era partito da convinzioni giovanili solidamente marxiste, sfociate perfino in una militanza attiva. Come studioso, poi, è celebre la sua attenzione ai documenti, la sua capacità di scovarne più degli altri, un vero divoratore di carte d'archivio. Eppure, è allo stesso tempo un instancabile organizzatore culturale e nel 1970 fonda la rivista Storia Contemporanea, che dirigerà fino alla morte. Come docente universitario, infine, è molto affezionato ai suoi studenti, i migliori dei quali aiuta e incoraggia, formandoli nel metodo, prima ancora che nei contenuti, e dando vita a una nuova generazione di studiosi. Rieti, è qui che l'8 aprile 1929 nasce Renzo De Felice, figlio unico di un funzionario doganale fascista. Studia a Roma e la maturità classica arriva solo nel 1949 da privatista, dopo ben due bocciature consecutive. È all'università che viene fuori la stoffa dello studioso. Si laurea in filosofia con 110 e lode, sotto la guida severa dell'austero storico Federico Chabot. E poi è borsista a Napoli, all'Istituto Croce. Intanto si è guadagnato la stima di Delio Cantimori, il grande faro della storiografia marxista. Anche il giovane De Felice è iscritto al Partito Comunista sin dal 1948. Studia Marx e Trotsky, fa volantinaggio, si fa persino arrestare. Nel 1950, manifestando contro la bomba atomica, e due anni dopo, in occasione della visita a Roma, del generale della Nato Matthew Ridgway. Fermato con un compagno mentre prepara un'iniziativa di protesta, passa due notti in questura. Nel 1956, però, a seguito dei fatti di Budapest, De Felice lascia il partito. La rivoluzione ungherese è stata repressa nel sangue dai carri armati sovietici. E quando Togliatti si allinea al Cremlino, il 27enne De Felice è tra i firmatari del cosiddetto Manifesto dei 101, redatto da comunisti dei senzienti. L'unità si rifiuta di pubblicarlo, e De Felice ne trae le conseguenze. In una lettera del 27 dicembre, confessa al suo illustre amico Cantimori. Per il nuovo anno non credo proprio che rinnoverò l'iscrizione al PC. Voglio vedere più chiaro in tutta una serie di questioni. Nel 1959 sposa Livia, la figlia del filosofo liberale Guido de Ruggero. Rimarranno insieme tutta la vita, e lei farà da revisore a tutti i suoi iscritti. Le sue prime pubblicazioni riguardano il giacobinismo di fine Settecento, e gli costano subito inimicizie, che ne ostacolano la carriera accademica. Nel 1962, infatti, viene bocciato al concorso per la libera docenza. Cantimori, che ne conosce il valore, ne è sconcertato. La cattedra arriverà solo nel 1968 a Salerno, grazie all'appoggio di un altro grande storico dell'epoca, il liberale Rosario Romeo. Poi, nel 1972, da Salerno, De Felice passa a Roma all'Università La Sapienza, dove insegnerà fino alla morte. Un giovane storico, militante del PC, fuoriuscito dal PC, che si occupa di giacobinismo all'inizio. Anche qui gli studi sul giacobinismo provocano polemiche? Ma suscitarono moltissime polemiche, non inferiori a quelle, diciamo, del periodo successivo, quello relativo agli studi sul fascismo. Probabilmente l'eco pubblica di quelle polemiche è inferiore perché il tema sembrava un tema più elitario, più decisamente accademico, ma in realtà era un tema sostanzialmente politico, perché a quell'epoca si era nel pieno, diciamo, della guerra fredda e l'interpretazione del giacobinismo e più in generale della rivoluzione francese fino al periodo napoleonico in particolare, il Napoleone italiano, era una interpretazione a livello internazionale e in Italia, diciamo, come riflesso, una interpretazione legata al marzismo puro. Con De Felice tutto questo scompare, scompare perché De Felice riesce intanto a cogliere, e qui si capisce subito il legame con gli studi sul fascismo, a cogliere l'esistenza di un filone rivoluzionario che può finire poi, come deriva, a creare dei regimi di tipo totalitario. Ebbe due maestri abbiamo visto, Chabot e Cantimori. Maria Sole Sanasi, come si compose questa dottrina di Chabot e Cantimori? Io penso che si compose proprio nella chiave, per capire la natura dell'opera di De Felice, cioè nella definizione di storicismo umanistico, che è la fusione appunto tra i due termini che ne forma l'inclinazione e anche quella tra l'influenza di Chabot e di Cantimori, cioè di storicismo idealistico e, come detto, marxista. La foce di quello umanistico sta nella scelta fondamentale per De Felice di cambiare facoltà. Lui passerà, infatti, da giurisprudenza a filosofia ed è proprio la filosofia ad indirizzare e abbracciare il suo modo di concepire la storia, sia sul piano sostanziale che su quello formale. Infatti la sua scrittura spesso è ritenuta tortuosa e prolissa, secondo me a torto, ma è vista come tale proprio in quanto vicina sia ad una documentazione storica, ma ancora di più ad un'indagine profonda di carattere filosofico e sociologico. E per quanto attiene invece alla sostanza, mi colpisce l'aspetto che rappresenta il frutto appunto della commissione tra i suoi due maestri, ovvero l'attenzione ai sentimenti collettivi, agli stati d'animo, che aprono gli studi di De Felice alla storia della mentalità, abbracciando quel tratto psicologico, cioè l'antropologia della storia, che riguarda l'individuo ed il modo di concepire le idee e con la consapevolezza precisa che la storiografia avesse la necessità di allargarsi alle scienze sociali. In questo modo De Felice compie una sorta di rivoluzione, perché convinto di una funzione civile della storia, rifiuta ad un tempo sia la concezione moralistica e militante di una storia in chiave ideologica e politica, senza problemi e senza dubbi, sia quella positivista di una storia solo documentaria, senza un vero sforzo di ripensamento critico. Interessantissime le cose dette da Maria Sole Sanasi, però in privato sia De Felice che Rosario Romeo contro la storia delle mentalità ne dicevano di ogni colore. Sì, 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 certamente, perché è giusto quello che ha detto appunto... Maria Sole Sanasi, sì. Sì, però c'è anche da sottolineare che De Felice aveva alcuni punti fermi. prima una diffidenza profonda per le scienze sociali, perché le scienze sociali, a suo parere, costringevano la ricerca storiografica in schemi che vincolavano il fenomeno storico, lo bloccavano. Era contrario appunto alla teoria della scuola delle annal, soprattutto delle annal e quindi la storia delle mentalità, perché a un certo punto finivano per privilegiare tutta una serie di aspetti che erano secondari e comunque deviavano l'attenzione dal fenomeno storico nel suo complesso. Quindi è uno storico molto atipico, molto particolare, la cui, diciamo, collocazione, a mio parere, va inserita nel quadro, sì, dello storicismo tradizionale con la correzione del realismo e questo gli viene da parte di Rosario Romeo che ha recuperato il realismo storico di Prunce. Che fu l'amico di una vita, poi fu... Ma vediamolo, adesso entriamo nel secondo capitolo dove vediamo il De Felice storico sempre guidati da Matteo Marroni. Tutto comincia con la storia degli ebrei sotto il fascismo. Così, a distanza di trent'anni, De Felice spiegherà l'origine delle ricorrenti polemiche che avrebbero accompagnato la sua carriera. Il libro in questione viene presentato a Roma il 29 novembre del 1961 nella storica libreria in Audi di Via Veneto. Accanto all'autore, allora 32enne, siedono lo storico Rosario Romeo e Sergio Piperno, presidente dell'Unione Comunità Israelitiche Italiane che ha commissionato la ricerca. La mole del volume e della documentazione reperita sono evidenti. La prefazione porta la firma autorevole di Delio Cantimori. Ciò nonostante il libro, dopo le prime recensioni favorevoli, inizia a suscitare roventi polemiche. Anzitutto perché tocca un tema scottante e innovativo, essendo il primo studio scientifico sull'antisemitismo fascista. Poi, perché De Felice rivela l'imbarazzante passato antisemita di alcuni personaggi di rilievo del momento, come lo scrittore Guido Piovene e lo stesso presidente del Consiglio Amintore Fanfani. Ma paradossalmente, il nome che fa scalpore è un altro, pur sere legato solo in una nota, quello di Leopoldo Piccardi. Il segretario del Partito Radicale, giurista che dell'antifascismo faceva una bandiera, nel 1939 avrebbe partecipato a Vienna un convegno antisemita italo-tedesco dal titolo Razza e Diritto. Piccardi nega, poi esibisce un documento che lo scagionerebbe, ottenendo da De Felice una parziale rettifica. Ma intanto il Partito Radicale si spacca letteralmente in due, tra detrattori e difensori di Piccardi. Tra questi, Ernesto Rossi, il coautore del manifesto di Ventotene, arriva a definire privatamente De Felice un piccolo mascalzone, manovrato da qualche personaggio potente che non sono riuscito a identificare. Alla fine, Piccardi si dimette e lo stesso Partito Radicale finisce per sciogliersi. Le recensioni al volume di De Felice diventano improvvisamente negative e livorose. È veramente la campagna antisemita che a mio avviso provoca la prima grossa frattura fra il fascismo e il popolo italiano. Con la campagna antisemita gli italiani si rendono conto veramente di cosa significhi l'alleanza con la Germania e dove essa inevitabilmente dovrà portare. Il saggio di De Felice sugli ebrei durante il fascismo dimostra che le leggi razziali furono una scelta autonoma di Mussolini e non il frutto di pressioni tedesche come si voleva credere ed è decisivo per la sua carriera. Già nel 1962, all'indomani del saggio, l'editore Einaudi ha chiesto a De Felice di scrivere una grande biografia di Mussolini in quattro volumi. Lo storico accetta. Ha 33 anni. Forse non immagina che vi dedicherà il resto dei suoi giorni senza riuscire a finirla. Anche perché i volumi finiranno per diventare otto per un totale di oltre 7.000 pagine. Il primo tomo esce nel 1965 col titolo già tutt'altro che banale Mussolini il rivoluzionario. Un termine che attribuisce al futuro dittatore un progetto politico di carattere innovativo e non meramente reazionario. Seguono Mussolini il fascista e poi il volume sul periodo dal 1929 al 1936 che De Felice definisce gli anni del consenso. Riconoscere a regime un effettivo consenso popolare per quanto non libero nell'Italia degli anni 70 scatena feroci polemiche politiche e accuse di voler minimizzare la portata del fascismo. La situazione peggiora sei mesi dopo quando esce Intervista sul fascismo. Una sorta di agile riassunto delle tesi De Feliciane che nella sola estate del 75 vende ben 50.000 copie. La sua è vista da molti come una riabilitazione del fascismo tanto che lo storico Nicola Tranfaglia arriva a definirla una pugnalata che può produrre tra i giovani guasti assai gravi. Tra coloro che dissentono c'è anche il grande storico britannico Dennis Mark Smith. La Rai organizza tra i due un dibattito televisivo in prima serata. Ma io sono fra i quali dicono che forse De Felice è andato un po' al di là della verità. Per me Mussolini è stato e rimane un criminale. E secondo me la biografia di De Felice dà veramente una simpatia troppo al di là della verità. Quando dice per esempio che Mussolini non era un uomo crudele le sue parole. Quando dice che Mussolini non aveva preso dei profitti illeciti? Ma io qua il problema della simpatia è un problema che veramente non mi torna. Si potrebbe fare il discorso della crudeltà. Cioè non c'è confronto fra la crudeltà del nazismo e la crudeltà del fascismo. Ma direi che il discorso è ancora più approfondito. Il tipo di nazionalizzazione che si era verificato in Germania dalle guerre napoleoniche in poi è il tipo di nazionalizzazione che si è verificato in Italia. E quindi proprio è tutto un mondo diverso. Professore De Felice in qualche modo se le tirava le critiche perché mi sono riletto la prefazione di Cantimori al Mussolini riscrisse anche la prefazione agli ebrei e non dico che sia una strancatura ma siamo lì vicino. Come mai Cantimori era il suo presentatore ufficiale e perché prendeva le distanze dei libri? Il rapporto con Cantimori è un rapporto molto stretto. I due erano molto amici sia dal punto di vista come dire intellettuale sia dal punto di vista lavorativo. Poi ne prende le distanze. Ne prende le distanze relativamente cioè sottolinea che a suo parere certi tipi di discorsi possono essere pericolosi. Questa è la sostanza del discorso di Cantimori il quale per inciso aveva lui stesso tutta una serie di problemi. Si parlava di lui tra l'altro in controluce. Samuel Bauscarello le tesi defiliciane furono fatte proprie a un certo punto dagli intellettuali di destra? Esattamente. Innanzitutto per quale ragione il livello della polemica cresce alla metà degli anni 70? Per varie ragioni alcune di queste le abbiamo viste. c'è anche un'implicazione politica ossia che dare ragione a De Felice significa ammettere che almeno per una parte della sua storia il regime fascista abbia goduto anche di un consenso attivo tra gli italiani. Questa è delle implicazioni fortissime. Siamo negli anni dopo la strage di Piazza Fontana con la tensione politica altissima. Addirittura il PCI che agita la paura che l'Italia possa fare la fine del Cile dove nel 73 il governo democratico è stato rovesciato dal golpe di Pinochet però esiste anche una risposta di destra come giustamente le ricorda anzi sei risposte a Renzo De Felice che è proprio il titolo di un volume del 76 in cui prendono parola anche intellettuali non italiani come il francese Maurice Bardè e le tesi di De Felice generalmente vengono accolte con favore soprattutto l'invito a studiare il fascismo senza preconcetti certo poi ognuno di questi intellettuali ha qualcosa da discutere su singoli aspetti tra loro a mio avviso la cosa più interessante la scrive però il giornalista Enzo Herra e cioè che seguendo il ragionamento di De Felice se il fascismo può essere studiato perché orfano il capitolo chiuso della storia d'Italia questo significa anche che è un'ideologia fallita non più riproponibile politicamente e non a caso qualcuno in seguito attribuirà a De Felice anche di aver preparato culturalmente il terreno per la transizione del movimento sociale italiano verso allianza nazionale ma questa è un'altra storia che sarebbe venuta circa un montegno più tardi interessante le cose che ha detto Samuel Boscarello perché è un po' lo stesso destino che tocca in Francia il più grande studioso della rivoluzione francese François Furet anche lui si trova appoggiato da intellettuali destra erano tutte e due sia De Felice che Furet di sinistra o di lì venivano non solo ma è sintomatico sottolineare il fatto che il rapporto tra Furet e De Felice diventa un rapporto strettissimo è un rapporto che nasce tardi e nasce direi incidentalmente perché i due si conoscono nel corso di un congresso e poi hanno una serie di relazioni a distanza fino a quando De Felice comincia a rileggere alcuni libri come quello di ripensare la rivoluzione francese e via dicendo e il rapporto diventa strettissimo ma è un rapporto stretto sintomatico non solo per l'iter ma perché a un certo punto spiega un pochino anche il percorso De Feliciano dal legge di acovidismo alla al fascismo quindi ai regimi totalitari ecco in Furet c'è esattamente lo stesso tipo di discorso la rivoluzione è un fenomeno unico che va avanti nel tempo la rivoluzione francese come madre adesso semplice dei totalitarismi del novecento certo la rivoluzione francese e soprattutto alcuni esiti della rivoluzione francese e in particolare alcuni esiti del pensiero di Rousseau la democrazia diretta di Rousseau una certa lettura della democrazia diretta di Rousseau finisce per diventare la lettura dei totalitarismi verissimo e allora entriamo qui nel terzo capitolo dove prendiamo il toro per le corna le polemiche che dovete affrontare Renzo De Felice sempre guidati da Matteo Marroni 25 giugno del 1974 Indro Montanelli il più celebre giornalista italiano lascia il Corriere della Sera spostatosi a suo avviso troppo a sinistra e fonda un nuovo quotidiano il giornale tra le firme che convince a lasciare la grande testata di via Solferino c'è anche per gli articoli storici quella di Renzo De Felice è un passaggio indicativo di un percorso che non farà che accentuarsi negli anni così nel 1976 eccolo firmare un appello elettorale anticomunista che invita gli elettori alle urne per frenare la temuta vittoria del partito di Berlinguer eccolo vicino all'anticomunismo del nuovo PSI di Craxi o del partito liberale che gli offrì perfino la candidatura e ancora eccolo partecipare nel 1977 a una seduta del tribunale internazionale Sakharov che indagava sulle violazioni dei diritti umani così frequenti oltre Cortina partecipazione che gli vale anche una schedatura dalla Stasi il temibile servizio segreto della Germania Est e infine ecco i rapporti con storici internazionali di vedute simili come François Furet in questo contesto da qui in avanti al De Felice storico si affianca il pubblicista che polemizza in modo crescente con l'egemonia culturale della sinistra talvolta radicalizzando le sue posizioni 1975 Renzo De Felice è accusato di eccessiva simpatia verso Mussolini a sostenerlo c'è anche Leo Valiani lo storico dirigente del CLN che aveva sovrinteso all'insurrezione generale del 25 aprile e alla condanna a morte di Mussolini per De Felice si tratta invece di obiettività quello che può sembrare simpatia è secondo me un'altra cosa è una certa sorta di obiettività diciamo così che forse si può riscontrare nel mio libro che può sembrare simpatia ma secondo me oggi questa obiettività è necessaria perché noi dobbiamo riuscire a capire cosa è stato questo regime fascista perché se non lo capiamo non solo rimane una pagina oscura nella nostra storia ma veramente si può correre il rischio che la gente equivochi su cosa è stato e pensi che sia una cosa che poi in fine conti non è stato tanto male si può ripetere nel 77 le sue lezioni alla Sapienza cominciano ad essere osteggiate ed interrotte da studenti di estrema sinistra e dieci anni dopo sarà una scotta in Borghese a consentirgli l'accesso all'aula dopo l'intervista da lui rilasciata al Corriere della Sera in cui aveva attaccato la retorica dell'antifascismo chiesto l'abolizione della norma costituzionale contro la ricostituzione del partito fascista definendola grottesca ed era arrivato a dire che il fascismo era al riparo dall'accusa di genocidio e fuori dal cono d'ombra dell'olocausto un giudizio oggi insostenibile e che già allora scatena le proteste di molti lui continua a lavorare all'ultimo volume del suo Mussolini ma intanto reagisce pubblicando Rosso e Nero altro libretto intervista fortemente polemico altro grande successo editoriale alla Sapienza gli studenti dei collettivi scandiscono De Felice sei un grande luminare ti manca solo Attila da riabilitare il 16 febbraio 1996 alcuni ignoti gettano due bombe Molotov sul suo terrazzo di casa due mesi dopo il 25 maggio De Felice muore di cancro tra il cordoglio unanime di tutte le istituzioni il collega rivale Dennis Max Smith rende omaggio al suo valore di storico è stato un grande storico perché lui è stato il primo è lui che ha scoperto la gran parte della documentazione ha presentato anche una tesi anche se è discutibile almeno adesso si può discutere in un contesto storico e non soltanto in un contesto politico parto da queste ultime affermazioni di Dennis Max Smith in morte di De Felice perché non possiamo lasciare fuori che lui trovò centinaia di migliaia di documenti forse lo storico ha trovato più documenti tra i quali pizzicava alcuni antifascisti del secondo dopoguerra che invece avevano avuto piccole o grandi complicità col fascismo già nei libri precedenti la storia degli ebrei fece sensazione il caso Piccardi nel senso che Piccardi che era segretario insieme del partito radicale fu scoperto che aveva partecipato a un convegno sulla razza e questo portò alla dissoluzione del partito radicale si certo però il caso Piccardi è un caso che è nato in un contesto molto particolare perché la vicenda di Piccardi per la verità sempre diciamo per gli specialisti era sostanzialmente già nota perché era immersa nel quadro delle processi però ritorna eccetera per De Felice è un fatto appunto da segnare in nota perché è del tutto inessenziale ai fini del suo discorso il fatto che Piccardi partecipi abbia partecipato in quanto consigliere di Stato e quindi in quanto espressione diciamo di una struttura istituzionale sì sì sarà indifferente però una parte del partito radicale va su tutte le furie e cominciano sì vanno su tutte le furie perché lì all'epoca c'era appunto sia nel partito radicale sia nel mondo diciamo culturale che ruotava attorno al settimanale il mondo c'era il problema della alleanza con i socialisti l'apertura a sinistra eccetera quindi il caso Piccardi esplode in questo contesto ed è un caso che riguarda la storia del partito radicale in quanto tale insomma non è un fatto specifico però senta questi saranno tutti i casi però De Felice attraverso quelle note che furono innumerevoli portava alla ribalta un problema portava un problema che fra l'altro faceva sentire diciamo una coscienza sporca a persone che a un certo punto si si vantavano del moralismo politico che era il grande nemico diciamo di De Felice De Felice disse una volta che il fatto di avere militato nel partito comunista lo aveva immunizzato dal pericolo del moralismo e allora non possiamo a questo punto non ricordare un gigante del partito comunista Giorgio Amendola che ritenne di intervenire sull'unità con un articolo che fece sensazione in difesa di De Felice da tutte queste critiche secondo lei perché lo fece Amendola? lo fece secondo me per un motivo molto semplice perché era non solo in buona fede ma perché noi non dimentichiamo che Amendola è un personaggio che viene da un ceppo familiare strettamente liberale il padre era quello che era e quindi lui ha difeso De Felice non solo in questa contro gli attacchi ma ha difeso De Felice anche perché in De Felice riconosceva un personaggio che non voleva per così dire dividere la storia in bianco e nero e poi voleva rendere anche a se stesso a Palmiro Togliati che in parte quelle cose anzi in gran parte le avevano dette già durante il faccio e quindi diceva ma che noi ci mettiamo qui a dire delle scemenze pur di dare addosso a De Felice e infatti Amendola non si limitò poi a quell'articolo avendola partecipata a tutta una serie di no scrisse un libro un libro un'intervista sull'antifascismo ma scrisse anche tutta una serie di interventi e di battiti sia in televisione sia su settimanali eccetera ribadendo diciamo queste posizioni di difesa dietro tutto questo tipo di discorso c'è un discorso di fondo che De Felice per la prima volta tira fuori una documentazione e quello che gli viene rimproverato sotto sotto è il fatto di avere usato la documentazione perché dicevano i suoi avversari la documentazione questa documentazione è di parte fascista quindi non ha senso la risposta di De Felice è che lo storico a un certo punto non può essere come l'ostrica attaccata al suo guscio ma lo storico deve calarsi nell'epoca quindi deve vedere tutti i documenti di quella parte per poter capire per poter capire io entro nel capitolo libri segnalando uno davvero molto molto bello curato proprio dal professor Francesco Perfetti che si chiama Renzo De Felice la storia come ricerca quindi a lei do l'incarico di darmene solo altri due sì dunque io a questo punto consiglierei due volumi di Renzo De Felice mi sembra la soluzione migliore il primo è un volume intitolato Fascismo che è praticamente la raccolta di due saggi sul fascismo scritti in occasioni particolari e che costruiscono una sintesi perfetta del pensiero De Feliciano sul fascismo il secondo è e secondo me potrebbe essere altrimenti che la intervista sul fascismo di De Felice curata dallo storico americano Michael Lede che è del 1975 e che è quella che scatena diciamo sulla stampa il massimo delle polemiche perché ci sono le tesi più significative un libro che ebbe enorme successo ringrazio il professor Perfetti per i libri che ci ha segnalato ringrazio i giovani storici che hanno collaborato a questa puntata e mentre vi invito a prendere nota di questi libri io mi preparo per le conclusioni Renzo De Felice la storia come ricerca a cura di Francesco Perfetti edizioni Polistampa 2018 fascismo Renzo De Felice le lettere 2011 intervista sul fascismo Renzo De Felice la terza 2008 Francesco Perfetti Francesco Perfetti si è soffermato sulla figura di Delio Cantimori uno insieme a Chabot uno dei due maestri di Renzo De Felice Cantimori fu un grandissimo storico italiano mazziniano repubblicano anticlericale grande studioso del rinascimento degli eretici italiani del Cinquecento ma un personaggio singolare perché fu prima fascista e poi nel dopoguerra comunista e su questo si accese un grande dibattito dopo la sua morte nel senso che i suoi allievi spiegarono meglio quella che era stata la sua adesione al fascismo ma comunque anche dal comunismo si allentanò dopo la crisi di Ungheria del 1956 morirà giovane cadendo dalle scale mentre mette a posto la sua biblioteca nel 1966 da sei Grazie a tutti.